ciao ragazzi buongiorno a tutti mi presento sono ilvio89 un piccolo tutorial come smontare il tergicristallo di una 500 abart e montare il tappo di seguito allora ragazzi eccoci qua allora sarà una chiave di 10 a bussola io ho scelto quello dei leverini di plastica per sganciare dopo la plastica una brugola d5 io ho scelto tipo cacciavite una cacciavite a stella il silicone nero e infine una fascetta per bloccare dopo il il filo che stacchiamo il tergicristalli iscriviti al canale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti